Allora salve ragazzi oggi parliamo del centenario della Mont Blanc, parliamo di questa stilografica non via del M2 e ci daranno compagnia un po' tutti i nostri amici, tutti i canali più o meno giebellati e comunque continueremo a parlare di stilografica. Allora vi raccomando, fanno i bravi e buon arrivato a voi. Grazie a tutti i nostri amici. Grazie a tutti i nostri amici. The temperature has dropped 10 degrees in the last 15 minutes. Celsius are centigrade. What? They're the same. The Mont Blanc Observatory High Mountain Library and Writing Room, headquarters of Inspire Writing, which is our other campaign slogan. This space represents the spirit of Mont Blanc as we see it. Mont Blanc, as you know, produces excellent pens and also watches. And leather. Yes. Here you can see is the famous little snowcap symbol on the top of it. This one's called the Meisterstuk, this pen, which means masterpiece. And this article is an example of the very good handcrafted leather goods which Mont Blanc makes. Some more pens. This is not a Mont Blanc. The hell is this? Yes, it is. This is actually the new special edition Mont Blanc fountain pen, which will come out next year, which I design myself. Oh, well done. Thank you. You like it? I prefer the original, the Meisterstuk. It's the classic. Well, I prefer this one, which I design myself. What's your one called, your model? It's called the Schreiberling, which means the scribbler. Scribler. Let's make our way up to the writing room, shall we? Yes. Here you can see is this room, furnished with a special Mont Blanc writing desk and very good paper and more leather goods. And ink. And hot chocolate and pretzels. Mm-hmm. What are you going to write? I think I'll write a letter to my mother. Perfect. How about you? I'll do my daily journal entry. Fantastic. I'll use my Meisterstuk. And yourself? I thought I might try my hand at writing a historical novel set during the times of feudalism. Okay. Wow. What's it about? I don't really know yet. I only thought up the first sentence. Oh, may I? Yes. It was a week before the solstice when little Helmut finally realized he was being hunted by a polar bear. Does that sound, am I stealing that from the start of some other book? I don't recognize it. Me neither. I'm sure. In the morning, by the way, we'll all three ski back down to base camp after breakfast. The weather should be exciting. All together. But for now, let's write. Mont Blanc, inspire writing is our slogan. Also, make your mark. There's two slogans. Leave your mark. Yes. Nice. Thank you. So now, let's write. Thank you. So now, let's write. Matita meccanica relativamente economica, seppur di un marchio prestigioso nel settore. Presenta caratteristiche interessanti che la rendono abbastanza versatile, nel seguito alla recensione del modello con le mie personali opinioni. Rotring è un'azienda tedesca con quasi un secolo di storia alle spalle, fondata nel 1928 ad Hamburgo. Oggi appartiene al gruppo Newell, che riunisce diversi importanti marchi nel panorama della cancelleria. Queste portamine meccaniche, ecco qui, le vedete qui nella loro confezione da due pezzi, le ho acquistate in tempi recenti, diciamo circa un paio di anni fa. La confezione che vedete ha attualmente un costo di circa 5€, quindi intorno a 2,5€ a matita, comprese anche le 24 mine di ricambio, queste sono in formato HD. Vedete, questa è la confezione con le mine e le due matite Rotring Germany, 1928, l'anno di fondazione del marchio. Qui ci sono le istruzioni in varie lingue, più che altro la descrizione di ciò che c'è all'interno del pacco. Andiamo ora ad aprirle e vediamo subito come è fatta una di queste matite. Questa è quella blu, è con il fusto praticamente interamente in plastica. Anche questa parte qui in punta, questo puntale conico, sembrerebbe metallo dal colore, però molto più probabilmente toccandolo sento che è in plastica anch'esso. Abbiamo in metallo la clip, semplice ma funzionale, e il cappuccio posteriore che serve anche come pulsante per far avanzare la mina. Questa è la gomma che si può rimuovere e sostituire. E qui, credo che si possa vedere, c'è il foro da cui possiamo inserire le ulteriori mine. Queste matite arrivano con all'interno due mine. Ho visto che se ne possono mettere altre due e funzionano bene. Comunque, ovviamente io consiglio di non esagerare perché potrebbero poi incastrarsi. Andiamo anche ad aprire questa parte in punta e vediamo il meccanismo. Estraiamo con attenzione. Anche qui abbiamo la pinza che è in ottone, quindi gli dona una buona resistenza. Molte matite meccaniche economiche ce l'hanno invece in plastica. E in metallo, anche vediamo se riusciamo a metterla bene. Ora andiamo ad agire sul pulsante posteriore. esce fuori alla prima pressione, subito questa parte va a proteggere effettivamente la mina ed è ad ago e poi premendo ulteriormente esce fuori la mina di quanto vogliamo. Così magari è troppo, andiamo a ritrarla. Cosa importante, questa è una caratteristica che apprezzo di questa matita, è che la mina è ritraibile completamente. Quindi se andiamo a metterla, per esempio, nel taschino di una giacca, in una borsa, non c'è rischio che poi buchiamo il tessuto, che facciamo danni o, come può facilmente capitare, se noi la mettiamo così aperta, andando a premere lateralmente si va a piegare questa parte metallica e praticamente la matita poi è da buttare perché non credo che esista come ricambio. Per quanto riguarda la scrittura, ovviamente è una, vediamo un po', rotring, è una normale matita, ma voglio dire, non è nulla di particolare. Il 0,7 è il diametro. Ovviamente noi possiamo cambiare la mina, possiamo metterne di altre. Queste, per esempio, sono della Faber-Castell 07HB e B oppure della Einstein, della Pentel. Queste sono sempre comunque da 60 mm, sono 6 cm come in lunghezza, come quelle che sono in dotazione qui. Poi ho visto che c'è, ad esempio, questo però è un marchio cinese, comunque si trovano più lunghe. Queste sono da 75 mm, 7,5 cm, dovrebbero garantire una maggiore autonomia, quindi ovviamente prima di passare da una mina all'altra. Rotring 07, visu-click. Ecco qui, questa è semplicemente la matita che si può utilizzare. Questa da 07, secondo me è un buon compromesso tra il disegno, non dico disegno tecnico, dove magari si prediligono mine ancora più sottili, però diciamo che fa un tratto, realizza un tratto che è sicuramente ben visibile e si può utilizzare veramente per tante cose, soprattutto anche per la scrittura. È una ragionevole via di mezzo. Importante è anche l'impugnatura qui, la parte dell'impugnatura che è triangolare, quindi permette una buona presa, anche se risulta un po' liscia. Hanno fatto la zigrinatura nelle parti dove invece non appoggiano le dita. Qui c'è uno svaso che non permette alle dita di andare troppo in avanti ed è effettivamente comodo. Non è una soluzione eccellente e altre matite ovviamente presentano delle impugnature magari metalliche con una presa ancora migliore. Vediamo ora un po' come esempio. Questo è un modello, come detto, base, entry-level. Rotring ha deciso di delocalizzare la produzione in Cina, ma i modelli più costosi, ad esempio questa è una 500, ma col più la 600 e la 800 sono invece made in Japan. Questa qua è una 500, matita sicuramente più costosa, qui abbiamo detto 2 euro e mezzo l'una, questa qua invece viene intorno ai 13 euro, mi pare di averla pagata. Ed è questa parte qui è metallica, tutta completamente zigrinata, godronata, come si dice. La parte qua del fusto invece è in plastica, tutto il resto è in metallo. Qui abbiamo il selettore per far vedere che mina c'è all'interno, in modo che uno possa ricordarsi, in questo caso la mettiamo su HB. E questa è la parte finale dove c'è la camicia e da qui fuoriesce la mina. Però cosa interessante è che questo modello, nonostante sia molto più costoso, non presenta il meccanismo di ritrazione della camicia, quindi c'è anche il rischio, può danneggiare quindi i tessuti o le borse quando la si va a riporre e quando non è in uso. Ora, una piccola curiosità, il nome Rotring deriva dall'anello rosso appunto che contraddistingue i modelli dell'azienda, in tedesco appunto Rotring. In conclusione, la VisuClick è un modello economico, cionostante mi ha comunque permesso di introdurre alcune caratteristiche che reputo particolarmente interessanti nel panorama delle matite meccaniche, in particolare alla presenza di una gomma integrata e intercambiabile, cosa ormai comunissima per carità in tante altre matite, e una punta retrattile. Questa cosa, come abbiamo visto, è anche un po' meno diffusa, ma io la ritengo decisamente utile. Tenendo conto che il costo non è elevato, mi sento nel compresso di poterla consigliare. Bene, siamo arrivati alla fine del video. In tutta onestà spero che sia piaciuto, che possa risultare gradito e magari anche utile. Vi ringrazio di cuore per la visione e vi ricordo che se volete potete mettere un mi piace e magari iscrivervi al canale per rimanere aggiornati sull'uscita dei prossimi video. Un grande saluto a tutti voi, ciao e a presto! Ben ritrovati cari amici da Stilorso, un grande abbraccio a tutti. Siamo arrivati a fine aprile 2024 e quindi è il momento di nuovo di fare un piccolo riepilogo sulle penne che ho attualmente inchiostrate. Allora, la prima l'abbiamo vista pochi giorni fa, è da una penna che sta continuando a stupirmi per la sua ottima qualità di scrittura ma anche per la sua qualità costruttiva. Quindi, bando alle cianci, andiamo a vedere subito la prima penna che è la Swin P80. Come ho detto nella recensione, questa è una penna che può essere un po' divisiva, nel senso che se non vi piacciono le penne metalliche, se non vi piacciono le penne con grip metallico, beh, sicuramente questa penna non fa per voi. Se invece vi piacciono le penne di sostanza, che si sentono in mano e ben costruite, robuste, un po' massicce, allora questa Swin P80 fa sicuramente per voi e nel qual caso mi sento di consigliarvela ad occhi chiusi. A me, devo dire, sono sincero, piace anche molto dal punto di vista estetico, però mi rendo conto che è una questione assolutamente personale. Il penne non è un'extrafine che magari non sarà un'extrafine sicuramente di carattere orientale, un'extrafine europeo come dimensione del tratto, però è assolutamente godibile e veramente piacevole da utilizzare. Eccola qua, Aswin P80. Penne non è un'extrafine, siamo su carta Tomoe River, dei bellissimi blocchi. di Buzz Notebooks, che quelli sì, ve li consiglio. Occhi chiusi. L'inchiostro mi pare di ricordare essere un private reserve. Comunque, questo pennino è veramente scorrevolissimo e piacevole. Veramente una bella penna. Certo, il cappuccio non si calza, come abbiamo visto, però mi piace davvero molto. Seconda penna inchiostrata, l'abbiamo già vista nei mesi scorsi, però è una penna che vi posso dire, è sempre tra le mie preferite e tra quelle che faccio più fatica a riporre. Sto parlando della Diplomat Aero, lo so, non l'abbiamo già vista, poco da aggiungere su questa penna, se non che il fatto che non posso altro che ribadire la sua eccellente qualità costruttiva e il suo ottimo pennino. Questo è un pennino medio, scorrevolissimo, però anche con la giusta dose di feedback. L'inchiostro è l'ottimo, Pilot Black. Alcuni mi diranno, ma il Pilot Black non è un vero nero, ma non sarà nero più nero, ma è bello fluido, è bello lubrificato. A me piace davvero molto anche questa penna. Veramente faccio fatica a metterla da parte, pulirla, perché insomma scrive veramente bene. Mi piace tantissimo. Terza penna, una New Entry. New Entry che recensirò diffusamente più avanti, dopo averla testata per bene più avanti, a lungo, e sto parlando di che cosa? Sto parlando di una Pelican L65. Di questa pena, come vi dicevo, parerò diffusamente più avanti, ma vi posso anticipare che è stato uno degli esperimenti più pazzi da parte di Pelican, però è una pena che io comunque apprezzo perché l'idea era quella di fare una pena scolastica con una grandissima autonomia, con però un sistema di caricamento diverso, totalmente inedito, che permette agli studenti di non doversi mai sporcare le mani, perché la capienza garantita da questo nuovo sistema di caricamento era veramente enorme. Parliamo di circa 4 milioni, quindi uno poteva andare avanti a scrivere, a scrivere, senza nessun problema. Perché, dicevo, senza rischio di sporcarsi le mani? Perché il caricamento veniva dal fondello tramite un apposito calamaio delicato. E quindi, poi vi farò vedere bene come funzionava, ma insomma, non ci si sporcava praticamente mai le mani. Inconveniente è che la penna è praticamente impossibile da pulire in tempi ragionevoli, a meno di non voler smontare il meccanismo con uno strumento fatto in casa, tipo la molla di una piccola molletta. Comunque, andiamo a vederla un pochino. Pelican Level L65, penna scolastica, che all'epoca costava 30 marchi tedeschi, quindi non pochissimo per essere una scolastica, ma aveva questo caricamento inedito inchiostro, è il buonissimo Diamond Midnight Blue, inchiostro dall'ottimo rapporto qualità-prezzo, il pennino, dimenticavo, anche in questo caso è un M, molto scorrevole come da tradizione pelican. Quarta penna, quarta penna dell'otto, abbiamo visto inizio mese o fine mese scorso, adesso non ricordo bene, una penna di un brand non molto noto, questo brand taiwanese specializzato nella creazione di penne, prima di tutto in legno, ma non solo, adesso anche in resina, questa Cypress Urban Health, a me è avviso molto molto carina perché da chiusa è una penna compatta, ma una volta calzata assume dimensioni importanti e scrive anche questa molto bene, come abbiamo visto, Cypress Urban Health, penino M, inchiostro, un inchiostro diciamo italiano, Pinheider Green, un verde con qualche, diciamo, sottotono blu, però ecco una penna, secondo me, vedete, piccola da chiusa, ma calzata diventa dimensioni importanti. Ultima penna dell'otto, anche questa l'abbiamo già vista, l'abbiamo già vista però con altri pennini, oggi ve la faccio vedere anche perché l'ho caricata con un inchiostro molto particolare che andremo a vedere a breve, sto parlando della Cambrite, modello Heritage, quindi modello un po' più, come dire, carino, tra virgolette, l'inchiostro è il KWZ Iron Girl Turcones, l'avrò scritto bene, vabbè, il ferrogallico turchese, vedremo che questo è un inchiostro meglio alla luce del sole, spero di riuscire a fare una recensione di una in cui si apprezza bene come, essendo ferrogallico, si va a scurire dopo essere stato steso, dopo qualche secondo. Un inchiostro che vedremo anche questo ha dei difetti, però secondo me sono più i pregi che i difetti. È un pennino molto scorrevole, aiutato da che cosa? Da questo ottimo, devo dire, alimentatore in ebanite montato su questa penna, che come vi dicevo ha magari qualche sensato difetto di finitura, ma dalla sua, diciamo il reparto pennino conduttore è veramente buono. Il pennino in questo caso è un brod, un brod tutto sommato comunque non eccessivo, penna con caricamento a stantuffo. Quindi andando un po' a riepilogare, a Swin P80, una piacevole conferma, a Swin, devo dire, una piacevolissima conferma. Diplomataero, che dire, una penna secondo me, da avere senza se e senza ma, a meno che non abbiate proprio un idiosincrasia verso le penne metalliche, ma insomma anche le linee particolari. Poi ci sono anche altre libere, se non vi piace l'arancio nero, insomma può essere non per tutti i gusti. Terza penna, Pelican Level, che mediterà una approfondita recensione in cui cercherò di spiegarvi un po' i misteri di questo sistema di caricamento, penna prodotta solo per cinque anni. La Cypress, taiwanese, bella questa resina, è una citato di cellulosa profondo, ecco una resina profonda, non una pennetta così da resina brutta. Si vede toccandola, questo lo lo si percepisce bene, spero che anche nel video lo si possa vedere. Penna, però autostock, fortunato io ad averla. E l'ultima, la Cambrite Desire, scusate Meritage, che sarà forse la più bruttina del lotto, ma non è sicuramente inferiore alle altre a livello di qualità di scrittura, perché appunto, vi dicevo, ha questo ottimo conduttore in ebandite. Bene, spero come al solito di non avervi annoiato, vi invito ad iscrivervi al canale nel modo migliore per aiutarmi. Un grande abbraccio e alla prossima da Sti Rosso. Un grande abbraccio e alla prossima da Sti Rosso. Un grande abbraccio e alla prossima da Sti Rosso. Ciao cari amici, allora oggi voglio parlarvi di una penna, vabbè, nulla di che, è una cosa che probabilmente molti di voi riceveranno le pubblicità sui vari social. Io tutti i giorni veramente sono subissato proprio da questa, diciamo, da questo marchio, chiamiamolo così, e quindi ho deciso di dedicarvi un apposito video, ok? Perché veramente bisogna fare attenzione un po' a queste, tra virgolette, fregature, secondo me. Allora, di cosa sto parlando? Allora, sto parlando di questa cosa qua. Adesso di tutto più caro, sto a graffo. Ok, allora, andiamo a vedere. Non è una cosa nuova, sono cose, ecco, con le luci, con il fondo nero, non si vede un tubo, ma eccola qua. Ok, questa è la stone graph, la riconosco dalla scritta che c'è qua. Vedete, c'è scritto Executive Vibe, ok, sulla veretta. Eccola qua, vedete? Ma non si tratta nient'altro che di una comunissima Ginao X450. Qua ho una sorella, vedete, che sono proprio... Questa è la stone graph, questa è una classica Ginao, ma vedete, la clip è quella, la penna è quella, insomma, nulla di nuovo sul fondo occidentale. Allora, queste le spacciano come super penne da cartigrafia perché gli montano, in questo caso ho un, vedete, è dorato, ho un pennino zebra G, ok, un pennino giapponese, sperando che sia uno zebra G perché ci sono i cloni cinesi di questi pennini e fanno abbastanza schifo. Non lo so perché non l'ho provata, non è mia, me l'hanno prestata, quindi vedete, intonsa, non inchiostrata, non la voglio neanche inchiostrare, ma volevo parlarvi un po' di questa cosa qua. Allora, l'altro giorno mi è arrivata la pubblicità della stone graph, allora me la offrono, sta penna, a 59 euro, però per 59 euro sinceramente se la possono ottenere sulla loro piattaforma perché io qua ho praticamente il clone di questa, non è il pennino zebra G e il nico G, poi se un nico G è anche questo, non lo so perché hanno preso su AliExpress, ma l'ho pagata veramente pochissimi euro, sotto i 5 euro, quindi ben 10 volte, anzi sopra le 10 volte in meno di quest'altra, ok, vedete sulla veretta questa riporta la scritta Ginao, ok, ma è la stessa penna, ok, lo stesso pennino, tutto uguale, solo che costa un botto di più. Allora, queste penne qua io le facevo già più di 10 anni fa, all'inizio ho accolto, insomma sono le classiche penne chimera, come le chiamano io, penne, chiamate come volete, però hanno un grosso problema, cioè i problemi sono tantissimi, quindi andare a dare 59 euro questa penna, ma anche 5 euro per questa, non conviene, nel senso che praticamente la fregatura è questa, ecco, vedete, io qua ho un pennino, è un nico G, l'ho montato su un'altra penna così, che era tipo questa, questa è una X750, perché comunque i gruppi scrittura sono sempre quella, la condotta è quella. Ecco, dopo tre giorni di inchiosto, ma neanche ferrogallico, è un inchiosto normale, vedete, la penna presenta già dei grossi problemi ossidativi, lo vedete, questa parte più scura, ok, sono già delle fortissime ossidazioni, al momento, ma vi posso assicurare che dopo tre giorni, quattro, ho questo problema, dopo un mese, non ho più il pennino, viene completamente divorato, perché queste penne qua, praticamente con questi pennini che sono ad intenzione, non sopportano il contatto continuo e perpetuo dell'inchiosto, quindi dopo l'uso il pennino andrebbe estratto ogni volta, ma non è così facile, perché ci viene incastrato in maniera veramente, cioè bisogna avere delle pinze all'uoco predisposte, e quindi non è così facile fare quel lavoro di togliere la, diciamo, scollare la condotta dal pennino, ma soprattutto vi è un altro grave problema, adesso guardiamo, ad esempio, scendiamo nel dettaglio, poi facciamo una prova rapida con l'altra penna, allora, questa è una X450, in tons anche questa, ok, manca, vabbè, manca la condotta, il converter, ma è sostanzialmente pulita il converter, l'ho utilizzato per un'altra cosa, vado a togliere, ecco, quando ho la sua conformazione classica, non ho nessun problema, anche a mano libera, tolgo facilmente la condotta, col pennino lo rimetto, ok, ma quando io gli vado a mettere, adesso ho un pennino, diciamo, nuovo, ok, se io questo pennino lo vado a mettere con questa condotta, vi voglio vedere i problemi che mi capitano, andiamo un po' più da vicino, ok, eccoci qua, ok, lo vedete, allora, io ho un sacco di problemi qua, ma perché? Perché praticamente, lo vedete, quanto cerco di portare, spero che si veda, ma penso di sì, ecco, cioè vedete che non combacia, ho praticamente una schiena di cavallo con una schiena d'asino che è il pennino, non combaciano, cioè devono essere veramente complanari e andare in adiacenza perfetta, ok, se invece io questa cosa non riesco ad ottenerla, ed è veramente una cosa importantissima da avere, perché se no, diciamo, è un vero disastro, perché, allora, lo disegniamo qua così ci capiamo meglio, allora, la condotta della penna è questa, ok, mentre invece io col pennino, quindi col Nico G, ho una monta diversa, sto esagerando, quindi quando io li vado a mettere assieme, avrò questo lavoro qua, ok, quindi in questo punto di bianco, dove ho il canale di capillarità, non riuscirò a far scorrere l'inchiostro, cioè l'inchiostro un po' andrà, ma poi si seccherà subito e non riuscirò mai a scrivere, perché non mi funziona il principio basilare della capillarità, e quindi sono praticamente fregato, ok, quindi ho bisogno di pennini all'uopo predisposti, che poi non ce ne sono, perché vi posso assicurare che ho provato un sacco di pennini, e ho trovato favorevolezza in altri pennini, ma non con il Nico G o lo Zebra G, tra le altre cose, lo Zebra G come questo è un'altra fregatura, anche quello, quello dorato che dicano che è essere in titanio, ma in realtà è solo verniciato, perché se fosse stato in titanio avrebbe avuto un senso anche questa penna, nel senso che il titanio non arrugginisce, io potevo usare questa penna in totale sicurezza, e allora anche se 59 euro erano veramente tanti. Però è solo una verniciatura, è un trattamento all'oggetto, al pennino, quindi vi posso assicurare che anche se costano 10 volte di più i pennini, quelli dorati, praticamente fanno una fine infima, molto presto anche quelli, nel senso che veramente vengono corrosi tanto quanto questa cosa qua che abbiamo visto, uguale, cioè proprio non ha nessuna, diciamo, maggiore resistenza alla corrosione quel pennino, quindi costa solo un botto, ma vale molto poco anche quello, ok? Mentre invece volevo farvi vedere, ad esempio io ho trovato un po' di pennini, questi qui, i mitici Osmio, che sono secondo me i migliori pennini da calligrafia punta tronca, vedete, perché hanno un doppio taglio qua, hanno una portata veramente notevole, sono placati oro 22 carati, insomma, ottimi pennini. Ecco, questo qui va molto meglio, non è proprio la perfezione massima, però vado leggermente più in adiacenza, ok? Quindi un po' di inchiosto riesce a tirarlo, vediamo se si vede. Cioè, non è proprio perfettissimo, ma, insomma, ci vado molto vicino. Poi, è chiaro, nel gruppo scrittura viene un po' più compresso, va in aderenza e comincia a funzionare. Ma assolutamente questo qui no, proprio assolutamente no. Cioè, sono in una condizione veramente di totale, diciamo, discrepanza geometrica. Cioè, veramente qua lo vedete, quanto è più alto, guardate quanto è una cosa che non può funzionare, ok? Proprio, cioè, se funziona è proprio perché col converter li buttiamo dentro dell'inchiosto, la penna comincia a funzionare, ma funziona un quarto d'ora. Ma adesso lo facciamo per curiosità. Poi è chiaro, quella mezz'ora mi diverto molto, ma poi dovrei avere l'accortezza di togliere tutto... Ok, allora, andiamo a caricarlo un attimo, andiamo... Carico la mia, eh, quella... Questa qua. Ma è la stessa penna, eh, cioè la stessa cosa. Ok. Faccio andare giù una volta. Ok. Pulisco. Ok, la penna forse più o meno dovrebbe essere atta già alla scrittura. Andiamo a vedere. No, ma perché non tira bene, cioè non... Vabbè, qualcosa... Devo sempre, appunto, pompare un po' di inchiosto dentro, è chiaro, poi va nel polmone, che è quella parte zigrinata. Io scrivo anche per un po', eh. Cioè, oh, io ho pompato un po' di inchiosto, ma dopo un po' mi si blocca. Cioè, perché non ho il flusso, non ho il flusso, diciamo, capillare. Poi è chiaro che in quel periodo, diciamo, d'uso, la penna funziona, la panacea di tutte le... Perché il pennino è ottimo. Anche se io ad Alia Espress il pennino è ottimo, questo qui che... Non credo che sia un originale, però questo qui sta andando bene, vedete, non grattano, non mi dà problemi. Ecco, è capitato un ammanco, ma per un po' va, eh. Ecco, però, vedete, comincio a avere problemi di flusso. Vedete, altro problema. Ho sempre dei problemi. Boh, ma perché mi manca proprio, cioè, ho il pescaggio, quel poco che riesco a portare di inchiostro nella condotta in questo spazio qua, no? Mi va un po' di inchiostro, ma lo consumo subito. Cioè, io posso avere delle cose superiori con i pennini, cioè questo pennino in intinzione. Con una piccola gabbola che mi sono inventato io di mettergli un serbatoio sotto, dura molto di più. Invece questo, vedete, qualcosa fa, ma non posso... Se comincio a schiacciare, lui mi entra in crisi subito, immediatamente. Vedete? Non ce la fa, ma perché la condotta non porta bene l'inchiostro. Quindi, diciamo, è un sistema, una penna chimera che non va assolutamente bene, secondo me. Quindi risparmiatevi i vostri soldi. È difficile fare delle penne chimera che funzionino bene, almeno ne ho viste veramente poche. E non un paio che funzionano, ma ci ho messo tempo per trovare, diciamo, il connubio perfetto. Pennino, condotta, penna. Cioè, questo qui assolutamente non va proprio per nulla bene, ma anche se ve lo fate da voi. Cioè, se volete spendere dei soldi, fatevelo da voi, ma senza andare a comprare cose che vi costano 60 euro. Assolutamente no. Ok? Quindi fate molta attenzione, ma anche perché poi gli stessi pennini... Allora, quando io monto un pennino, che mi costa... Adesso questi pennini qua vanno sui 20 euro l'uno, ok? su internet, ma sono dei pennini ottimi, sono stupendi, ok? Ci può stare, sono eterni, perché sono placati oro. Ma questi sono pennini di intenzione, destinati già di per sé, di default a essere sostituiti molto, con una certa irregolarità. Allora, ma sono pennini che costano più di 2 euro l'uno. E non durano molto. Se con ferro gallico durano poche ore, o pochi giorni, ok? A furia di cambiare pennini, vuol dire che con 100 pennini, e chi scrive molto 100 pennini, fuori anche in un anno, voi avete speso più di 200 euro. Allora, con 200 euro, voi potete assicurarvi, diciamo, l'acquisto di penne, tipo questa qua, una 742, una Pilot 742, vi costa poco più di 200 euro. Ma avete la sicurezza che quella penna non andrà mai alla fine, ok? Non avrò quei risultati di finezza così, ma anche lì poi c'è da ridire, perché prossimamente vi farò un video dove farò vedere una 742 col pennino customizzato. Anzi, posso farvi vedere velocemente anche qua la cosa, visto che ho tutti gli elementi per farlo. Allora, questo è un Niko G, quindi ho questo livello di finezza, e poi posso fare... Purtroppo ho quel problema che è più di tanto, ok. Chiaramente gli ovali me li fa bene, perché... Appena lascio, vedete, ok. Però, guardate qua, questa è stata customizzata, però andiamo più da vicino che diventa più interessante il confronto. Allora, poi farò un video ben fatto, un inchiosto però nero che può falsare leggermente. Ok. Vediamo, ok. Vedete che il livello di finezza non è molto dissimile da questo qua, ma al contrario di questo io posso... Aspettate, facciamogli arrivare un po' di inchiosto per tenere in posizione orizzontale. Ok, ma lei me lo tira, ok. E tra le altre cose anche il pennino è perfettamente elastico, vedete, ho la stessa cosa, ok. Quindi anche la cosa che spesso sento dire che le penne stilografica assolutamente non possono raggiungere i livelli dei pennini, no, cavolata, alcune penne lo possono fare. Chiaro, sono penne speciali, ma le posso avere, ok. tuttora nel 2024, ok. Quindi non diciamo cavolate dei pennini. Certo, sono molto più flessibili di questo un chiodo, non lo piego neanche se ci entro sopra con 90 chili, però è chiaro che questi poi hanno proprio una forma geometrica tubolare, sono pennini tubolari molto più facili alla flessibilità. Insomma, sono due cose geometriche molto diverse. Queste hanno le ali che rigidiscono il pennino, insomma, c'è tutta una serie di cose diverse, però, questa è una falcon, pennino falcon, in oro, avete visto che riesco a ottenere delle cose pressoché identiche al pennino in tinzione. Buon, la chiudo qua, riapriamo il campo, quindi fate attenzione, coi soldi che vanno via in un anno o poco più, vi comprate già una 742, e se insistete di più, con poco, beh, poco di più, 100 euro in più, la 743 è ancora meglio, e sono secondo me tra le penne moderne più atte a fare questo genere di stili cardigrafici. Ok? E con questo vi saluto e vi ringrazio. Ciao ciao a tutti. Allora, andiamo a valutare questa stilografica. Allora, vediamo che viene dalla Cina, abbiamo un'email made in Cina, onde è un M2 black, dovrebbe essere fine, lo vediamo, e importatore, importatore, un guanzu, shihian, zimao, limitated, con un indirizzo, però, made in Cina, onde è, ok, non c'è bisogno, generalmente, onde è, nasvin, magari no, però, queste hanno sempre lo stesso tipo di confezione, spartana, molto, dato anche il prezzo, ma robusta, come vedete, eccola qua. stilorso, questa penna non l'ha voluta prendere, perché è piccola, lui dice, io ho le penne piccole, già si è dato via, posso dire, un mito della stilografia, la Pilot 92S Elite, praticamente il pennino in oro, più economico al mondo, eh sì, bisogna dirlo, e lui se l'è data, perché, effettivamente, è una penna piccola, non tanto per le sue mani, lui, eh, quanto a lunghezza, allora, peso di sostanza c'è tutta, poi l'andremo, l'andremo a pesare, chiaramente, vedremo quant'è, però, sì, questa è una penna a tutti gli effetti che va calzata, assolutamente sì, se no, non raggiunge, vedete, non raggiunge proprio la, non è che è impossibile scrivere, assolutamente no, però non raggiunge quel minimo di lunghezza, monta un converter tipico cinese, affidabili, affidabili, poi dico cinese, ma in realtà, questo è molto economico, perché è piccolo, è uno dei più piccoli in assoluto, generalmente, tanto per darvi l'idea, vedete, ora, è piccolo sia nel, nella carica, vediamo, perché poi è tutto relativo, che nel pirulino, del pirulino ci importa poco, nel pirulino ci importa poco, però, vedete, a parità di carica, no, sembra un po', ma quello normale, sì, c'ha un pochino di più, c'ha un pochino di più, chiaramente uno normale non può essere montato, perché se no, non si richiude, vedete, la lunghezza normale mancherebbe, qualche centimetro, andiamo a valutare anche, le scritte, che spesso ci possono essere d'aiuto, e non un Dian, quindi, è come, il caveco, la caveco sport, a cui sicuramente si ispira, nella, diciamo, nella volontà di riprodurre un marchio come, come la caveco sport, e gli costa uguale, solo che questo è in alluminio, quindi, la versione caveco sport in alluminio, in realtà, costa molto di più, va, va sicuramente sui 60 euro, allora, clip, buona, buona elasticità, a differenza della caveco, viene, non c'è possibilità di toglierla, è inserita, allora, valutiamo pure, il, diciamo, il logo, che, a tutto assomiglia, vorrei dire a cosa, ma non lo voglio dire, andiamo avanti, dai, va bene, ci sta, ci sta, questa la togliamo, che non fa parte della, e la andiamo a caricare, con che cosa la carichiamo, allora, vediamo, cosa mi aveva mandato, allora, stilorso mi aveva mandato, un die mine, blu, pelan blu, un delta nero vesuvio, e un visconti, quindi, lo vado a caricare, un visconti, è rosso, non mi va, io, pelan blu, la uso sempre, andiamo, con questo delta nero vesuvio, delta nero vesuvio, eh, lo so, tu dici, e tu lo dici, io lo dico, chi lo nega, non lo so, allora, diamolo, non lo agido, per evitare, ci sono due scuole di pensiero, con i loaggi, dipende dall'inchiostro, se è molto solubile, ho certezza, e come andrò a toccarlo, mi sporcherò le mani, cosa che vorrei evitare, per no stare sempre, quindi, come era, ci si sporca anche senza toccarlo, figurarsi toccando, allora, quindi, prima volta che incontro, sicuramente una cartuccia, la monta, ma noi, andiamo a caricarlo, ecco, buttiamo fuori l'aria, quindi facciamo, carichiamo, scarichiamo, carichiamo, scarichiamo, alla terza volta, dovremmo esserci, già c'eravamo prima, ma, la penna di sostanza, sicuramente nel peso, è una penna di sostanza, sicuramente nel peso, piccola, diciamo, una penna così, non è, non è facile trovarla, ok, ci sarebbe da vedere, capire se c'è un controcappuccio, quello che vedete in fondo, è solamente, sembra quasi, che traspaia, come se ci fosse un buchino, ma bloccato dalla, da questa, dal logo, e soprattutto, da questa, trasparenza, vabbè, poi lo vediamo meglio, con una lucetta, però, aspetta, voglio vedere, se traspare, di fatto, ok, la penna è veramente, molto, piccolina, se pensate, ecco, una stipola splash, che è, comunque, una penna, portatile, gli è, sicuramente, ancora più piccola, rispetto a una, qualunque, stilografica, diciamo, normale, allora, vediamo, che ne so, una misura, una pelican, M800, no, però è una cinese, quindi, una Schneider, sì, una, Leonardo, è veramente, piccola, è la più piccola, di tutte, posso dire, che batte ogni, quasi ogni record, eh, non è la più piccolina, ma è una delle più piccoline, assolutamente, a chi va bene, va bene, a chi, ha bisogno, di portarla in giro, a differenza, della che avevo sport, questa veramente, te la puoi mettere nei jeans, perché nei jeans, allora, assoluto, non trovo un foglio di carta, cioè, non c'è il foglio di carta, beh, adesso, prima di fare la, la prova di scrittura, ho bisogno solo, di scarabocchiarci un po', per vedere se scrive, scrive subito, vedete ragazzi, un via M2, non mi ricordo, come l'ho ordinata, con quale, se è F, F, credo, o, o, extra fine, extra fine, adesso, lasciate perdere il tratto, perché sto scrivendo su carta da fotocopia, quindi neanche a dire, facciamo una serie di, di 8, pennino, chiaramente rigido, per fortuna, mi sarei sorpreso, che poi, in realtà, vedete, se sapete usarlo, come mi ha insegnato Ernesto Casciato, no, scherzo, però, come vedi, io, il corsivo, inglese, no, romanesco, ce lo potrei fare, ma, in realtà, sfruttando un trucco, che non è, la flessione del pennino, ma, come mi insegnava il mio maestro, è, la, mh, capacità della carta, di assorbire l'inchiostro, quindi, se vado piano, lo assorbe, se vado veloce, no, la, extra fine, su una carta di questo genere, è perfetta, guardate, guardate, se adesso, vedete come lo prende, guardate, se lo mangia, perché la bugata, la carta, chiaramente, siete troppo forti, le capacità sono, adesso sto in reverse, in reverse, per funzionare, ha bisogno, che il conduttore, assorba, inchiostro, senza arrivare a queste, a queste capacità, guardate, va bene, va bene, allora fra qualche ora il reverse sarà più che quindi il reverse è l'ultima cosa che andrebbe provata allora queste sono penne che servono per scrivere sembra strano ma tutte le stilografiche sì ma non tutte allora e questo è il suo dovere e lo fa magnificamente scrittura veloce, lenta quello che è chiaro che se usate una carta viene da sorridere però dai sì 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 ci sta dai ci sta vedete senza neanche muoverla punto e virgola va bene andiamola a provare su una carta una Claire Fontaine una Fabriano ecco qua oppure qualcosa di più di più incisivo come qualche carta giapponese no la Rodia Claire Fontaine Rodia pari sono in realtà la Claire Fontaine è superiore alla Rodia lo posso dire dillo Riccardo dillo e va bene lo dico dai allora il pennino siamo proprio sul sull'ultima generazione tenendo conto che anche Brunito scrive benissimo devo essere sincero per quello che non è la più economica ormai i cinesi si stanno adombrando a prezzi no dai pochi euro adesso si va a prezzi sempre un po' più elevati allora addirittura ha la possibilità vedete ben venga andiamo a vedere allo scimmiometro se resiste allo scimmiometro a questa penna